Questa è la valle dei 25 ponti o di Sant'Angelo, stiamo a un quarto di costa, in fondo vediamo Idri, con il castello di Fradiavalo, e più su vediamo il santuario della Madonna della Civita, qui i contadini erano tanto devoti, questa è la valle, quella è Lappia, lì in fondo e sopra Lappia c'è la ferrovia Roma-Napoli, quello che vedete lì è l'ultimo tratto di strada che doveva collegare la fortezza di Gaeta con Sora, insomma tutta l'alta terra di lavoro, e qui stiamo continuando a ripulire il costone, qui c'era veramente una foresta, vedete in questo angolo quanta erbaccia e macchia abbiamo estirpato, e continuiamo il lavoro fino alle 2, altrimenti le olive di Gaeta se le mangiano le mosche, la mosca o le aria, a noi non lo permetteremo, a suo hanno sbancato del terreno impropriamente, vedete che questi sono i veri crimini ambientali da perseguire, noi continuiamo il lavoro perché è mezzogiorno e mezzo e la sete e la fame cominciano a farsi sentire, grazie a tutti, grazie a tutti!